Senti Daniela, so che tu sei una delle mamme che giovedì scorso ha partecipato alla riunione che era stata fatta qui all'auditorium per parlare del servizio Messe del Comune di Chioggia. Sì. Ci racconti un po' cosa è successo, come è andata? Eh niente, non abbiamo combinato niente praticamente in quell'ora, perché siamo andati lì e non ci stavamo e ci hanno detto di andare via. E non ci hanno saputo dare le risposte che cercavamo, perché a tuttora oggi non abbiamo ancora capito come caricare questa tessera virtuale per i buoni della mensa, non sappiamo quando comincerà il servizio per i nostri figli e noi ci siamo trovati in una situazione un po' scomoda, perché continuiamo a lavorare, abbiamo problemi con il lavoro e non sappiamo come comportarci. Comunque oggi non ci hanno dato ancora una risposta concreta, non lo sappiamo. C'era molta gente giovedì? Eravamo in tantissimi, si soffocava e ci hanno proprio mandato via, perché per motivi di sicurezza non potevamo più stare lì dentro. Allora io mi chiedo, ma le istituzioni non potevano rendersi conto visto che il comune di Chioggia è abbastanza popolato, che ci trovavamo così tante persone lì dentro e ci hanno anche mandati via. Va bene, grazie.